Rocco Coppola Relectura Avete mai pensato realmente cosa sia la sostenibilità? Quando andate al supermercato e comprate dei bicchieri usegetta, lo comprate di plastica o di carta. alzi la mano chi lo compra di carta. Bene, quando vedete due fratelli litigare, due figli, intervenite o li lasciate litigare? Non ve lo chiedo di alzare la mano, spero che interveniate. Quando uscite di casa le luci le lasciate tutte accese o le spegnete? Ecco, nella quotidianità tendiamo alla sostenibilità, a comportamenti sostenibili, ma facciamo fatica a definirla. Provate a fare lo sforzo addirittura di quantificarla, quanto siamo sostenibili. Ecco, se è faticoso per noi, definire e quantificare la sostenibilità, provate a pensare quanto sia difficile farlo in un sistema più complesso, in un'azienda, in una città, in una nazione. Cesena è sostenibile? Questa è una domanda a cui dare risposta non è semplice. L'intenzione di essere sostenibili non ci dà le linee guida per esserlo. I nostri comportamenti non è detto che ci facciano essere più sostenibili. Serve quindi un sistema di misura, un qualcosa che ci aiuti a misurare la nostra sostenibilità. Però prima di entrare nel sistema di misura che poi vedremo, mi piacerebbe inquadrare il tema, perché spesso se ne parla come un qualcosa che deve venire dall'alto, come se se ne debbano occupare i governi, se debbano occupare le aziende. Ma noi, cosa possiamo fare per essere più sostenibili e rendere il nostro mondo più sostenibile? Possiamo fare tanto. Dobbiamo proprio cambiare i nostri comportamenti e capire quali ci fanno essere più sostenibili o addirittura ci sono dei comportamenti che pensiamo che ci facciano essere più sostenibili, ma non lo fanno affatto. Allora partiamo dalla definizione della sostenibilità. Ma prima vi voglio fare un esempio di che cosa voglia dire essere sostenibili. Perché nel 2019 una start-up svedese ha introdotto sul mercato una carta di credito eco-friendly. Cosa vuol dire? Una carta di credito che ha un limite economico, come tutte le nostre carte di credito, e un limite di CO2 che io posso spendere nell'arco del mese. Quindi quando vado al supermercato e vedo un pacchetto di merendine da 1,5 euro, tutte e due da 1,5 euro, ma una che ha emesso un chilo di CO2 e l'altra mezzo chilo di CO2, posso scegliere quella che compro in maniera consapevole rispetto al mio impatto e alla mia sostenibilità. Quindi il mondo sta andando in questa direzione, ci sta dando degli strumenti per essere più consapevoli di quello che facciamo. E quindi noi dobbiamo cominciare a fare delle scelte che vadano contro un mercato che attualmente non è sostenibile. Quindi la definizione che l'ONU ha dato nel 92 di sostenibilità è una definizione che a me ha colpito molto, ed è la sostenibilità e la condizione di un modello di sviluppo in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni della generazione attuale senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Ecco questa definizione dell'ONU è una vision, ci dice dove dobbiamo andare, ma non ci dice come, non ci dice qual è la strada. E quindi per aiutarci in questo introduco i tre pilastri della sostenibilità. I tre pilastri che cosa vuol dire? Vuol dire i tre ambiti in cui si gioca la nostra sostenibilità e per misurarla dobbiamo misurare questi tre ambiti. Il primo è l'impatto ambientale, tutti noi leghiamo la sostenibilità all'impatto ambientale, questa è l'associazione più facile che riusciamo a fare, utilizzo di suolo, utilizzo di acqua, utilizzo di energia, produzione di rifiuti. Quindi non mi dilungo molto su questo, però richiamo la prima domanda che vi ho fatto, bicchiere di caldo o bicchiere di plastica? Impatto ambientale. Poi il secondo è l'impatto sociale, ci troviamo di fronte ad una rivoluzione, una rivoluzione vera. Stiamo andando, stiamo transitando verso una nuova epoca, anche Papa Francesco l'ha definito cambiamento d'epoca. Ecco nelle rivoluzioni c'è sempre qualcuno che rimane indietro. Non possiamo rimanere indifferenti a questo e quindi ognuno di noi ha un impatto sociale e quella domanda sui fratelli che litigano si ricollega esattamente a questo. Non possiamo rimanere indifferenti al contesto in cui siamo. Il terzo è l'impatto economico, una sostenibilità che non è economicamente sostenibile, non è una sostenibilità vera. Se guadagno 100 euro al mese e ne spendo 120 non sono sostenibile. Le aziende in questo periodo di crisi hanno capito molto bene che cos'è la sostenibilità economica. L'incrocio in quell'area gialla che vedete in mezzo, lì c'è la sostenibilità. Ci vogliono tutti e tre questi fattori. Ma come stanno insieme questi tre fattori? Spesso sono anche uno contro l'altro. Come posso metterli insieme? È solo una bolla di marketing questa sostenibilità oppure c'è la possibilità veramente per ognuno di noi di fare qualcosa per cambiare? Si può misurare questa sostenibilità? Ecco, la risposta è sì. Da ormai diversi anni all'Università di Bologna con il mio gruppo di ricerca abbiamo sviluppato un modello molto semplice, lineare, dopo ve lo mostro, che permette di misurare la sostenibilità. Come facciamo? Entriamo nelle aziende, prendiamo una enorme quantità di dati che tutte le aziende hanno, quelli che si chiamano big data, enorme quantità di dati e poi che cosa facciamo? Introduciamo alcuni indicatori che elaborano i dati e creiamo gli smart data, cioè le informazioni, i dati intelligenti, quelli che ci fanno prendere le decisioni. Big data, indicatori, smart data sembra un po' cose da tecnici, ma facciamo un esempio. Io produco circa un chilo di rifiuti alla settimana di organico, il mio vicino di casa ne produce 0,5 kg alla settimana. Chi è più sostenibile tra me e lui? Abbiamo detto impatto ambientale, produzione di rifiuti, lui ne produce di meno, lui è più sostenibile di me. Prendiamo un altro big data, io ho una famiglia con quattro figli, una moglie, lui vive da solo, io compro 10 kg di cibo alla settimana, lui ne compra 2 kg. Altro big data, altro dato che ci caratterizza, che tutti noi abbiamo, lo possiamo misurare. Poi introduco con l'indicatore, che è lo scarto percentuale, cioè quanti chili butto su quanti chili compro. Che cosa viene fuori? Lo smart data. 10% di scarto per me, 25% di scarto per il mio vicino. Vedete che la situazione si ribalta, io sono più sostenibile. Ok? Quindi un modello in grado di misurare la sostenibilità. Questo si chiama vivace, è il modello che abbiamo realizzato, prende dei dati in ingresso, introduce degli indicatori e produce dei dati in uscita. Efficienza energetica, rinnovabilità dell'energia, carbon footprint, c'è la nostra impronta ecologica, impatto sociale, tanti indicatori. Poi se ne possono trovare, l'ultima pubblicazione ne ha fatti 365 di indicatori, uno al giorno come i santi, ma ne bastano pochi, ne bastano pochi. Ma il tema vero è che quel quadratino che abbiamo appena visto, che siamo noi, in realtà si inserisce in una filiera. Questa parola è determinante nella sostenibilità, la filiera. Cioè non possiamo pensare di fare sostenibilità da soli. Non ce la facciamo. o perlomeno facciamo qualcosa che ha impatto molto basso. Quindi dobbiamo renderci conto che c'è un produttore, che c'è un assemblatore, che c'è un distributore, che ci siamo noi come utilizzatori, che c'è un manutentore, che c'è chi gestisce i rifiuti. Quindi il tema della sostenibilità, con quel quadratino che misura i dati in ingresso, i dati in uscita attraverso degli indicatori, è il modello con cui noi, ognuno di noi, può misurare la propria sostenibilità in relazione alla filiera in cui si trova. Quindi siamo arrivati al punto in cui avete abbastanza chiaro che cos'è la sostenibilità e che c'è una possibilità di fare qualcosa di grande per noi oggi e per le future generazioni. Ma per darvi ancora un esempio in più e farvi toccare con mano cosa vuol dire essere sostenibili, vi porto l'esempio di un progetto che ho coordinato l'anno scorso e che abbiamo presentato proprio all'inizio di quest'anno, che parte da un tema che è sulla bocca di tutti, il plastic free, liberi dalla plastica. Tutto il mondo ci dice di liberarci dalla plastica perché inquina. È chiaro che è un'utopia, l'avete capito tutti? Tutto è fatto di plastica, il telecomando, l'orologio, il mio vestito, le mie mutande, tutto contiene plastica. Quindi o troviamo qualcosa che la sostituisce o se no il plastic free non lo facciamo. Ok? Quindi che cosa abbiamo detto? Ok, plastic free, provo a creare qualcosa di sostenibile sulla plastica. E che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo ideato come filiera. Cioè che cosa abbiamo preso? Abbiamo preso un termoformatore di vaschette plastiche, quelle vaschette che utilizzate al supermercato per prendere la carne, la frutta, la verdura, eccetera. E abbiamo detto ne possiamo progettare una che invece di avere dentro 4-5 plastiche che non sono riciclabili poi quando sono tutte insieme, abbia una sola plastica e ne abbiamo fatta una in mono P&T, cioè con una sola plastica in polietilene, solo una. L'hanno fatta e poi siamo andati da chi confeziona carni e frutta. E gli abbiamo detto ci potete mettere il vostro prodotto dentro? La shelf life del prodotto rimane uguale, cioè non scade prima, manteniamo la vita utile del prodotto. Poi siamo andati dal distributore, il terzo, pilastro, e gli abbiamo detto facciamo un progetto, diamo questa vaschetta ai clienti e se ce la riportano gli riconosciamo 20 centesimi per ogni vaschetta che ci riportano. Non un vuoto a rendere, non è che pagano di più e le restituiamo, no, gli diamo in più. E poi il riciclatore che prende e riporta le vaschette al termoformatore. Questo progetto è durato due mesi e ha dato dei risultati molto interessanti. Dal punto di vista ambientale il termoformatore plastico non ha più comprato materie primavergine, ma riesce a ristampare le vaschette che il prodotto ha riciclato. Quindi l'impatto ambientale c'è, non uso più risorse prime dal sottosuolo. L'impatto sociale ho messo in fila tutta una filiera lavorativa fino al cliente finale, che era quello che perdeva la tracciabilità, non mi permetteva di tracciare il prodotto. Invece così tutto rimane dentro una filiera. E l'impatto economico? C'è l'impatto economico. La vaschetta costa 3 centesimi. Io riconosco al cliente finale 20 centesimi. Non c'è, mancano 17 centesimi. Chi li ha messi questi 17 centesimi? Il termoformatore plastico si è visto in questo ultimo anno l'aumento della materia prima aumentare da 0,8 a 1,6 euro al chilo del PET. Quindi se non avesse avuto il materiale da riciclare avrebbe visto aumentare del doppio il costo della sua vaschetta. Chi ha venduto carni e frutta in quelle vaschette ha avuto un aumento di vendita del 10% solo perché quello stesso prodotto era in una vaschetta riciclabile. Il mercato c'è, è pronto a ricepire questa cosa. Il distributore ha fidelizzato il cliente. Ti riporto la vaschetta e rispendo i miei soldi dentro da te. Chi ha gestito i rifiuti non è più dovuto passare dagli impianti ma con la stessa tariffa ha portato al riciclo direttamente. Questi 20 centesimi sono nella filiera e quindi è proprio nella filiera la possibilità di fare sostenibilità. Adesso spero che sia un po' più chiaro cosa vuol dire essere sostenibili. Spero che ognuno di voi abbia intuito i tre pilastri della sostenibilità e abbia capito che si possono misurare, si possono avere comportamenti consapevoli nei confronti della sostenibilità e quindi la domanda che vi faccio è la stessa dell'inizio. Ma domani quando andate al supermercato comprate il bicchiere di plastico o il bicchiere di carta? Io questo calcolo l'ho fatto. Adesso però sta a voi fare la stessa cosa. Grazie. 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 Grazie.